Marron Bene Proviamo Ah sì, volevo fare un saluto Alla Bagascia E a Mauro Ciao Mauro Ci avete un accendino? Grazie Allora andiamo a trattare dell'alimentazione Un altro argomento importante Siamo quello che mangiamo Ho letto da qualche parte Non mi ricordo più dove Tanto tempo fa Faccio un brano che si titola Vuoi la pezza? No Io non voglio la pezza E tra qualche L'abbare Andiamo avanti con il prossimo brano Che si titola Pulisse un po' di ragù Sì Ma mangerei un po' di ragù Steghe, deghe, 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 uu Questo è diverso Il prossimo brano si titola Il prossimo brano si titola E sopra il ragù Che hai detto che volevi Ci vuoi anche un po' di formaggio? Non so Fammi pensare un attimino La prossima canzone si titola Che hai fatto? Ci hai pensato? Sì Mettimelo un po' Il prossimo brano si titola Ecco di quel formaggio Te lo devi grattugiarlo Grattugio melotto Un po' di formaggio Oggi mi fa tanto male Il braccio Tengo un po' d'altrosi digitale E fa a me sto piacere Guarda è vero Io non t'ho mentito E poi mi capita sempre Che mi grattugio anche un po' di dito Grattugio melotto Se sei un amico La prossima canzone si titola E niente di meno Mettete lì per l'amicizia e dan-dan Fa così Grazie Grazie Allora Si va concludendosi No Già Bello eh Grazie Grazie Andiamo a trattare un altro Accometo con i prossimi brani Per esempio La politica Effettuora un brano che si titola Ascoltando e guardando parlare I politici Dello scudo fiscale In televisione In televisione Grazie 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 Grazie